Ho trovato una squadra all'inizio forse un po' sfiduciata, però poi devo essere onesto questa settimana è stata una buona settimana, ho trovato grande disponibilità da parte di tutte ed è stata una settimana dove abbiamo fatto qualità e anche quantità e quindi sono contento, per adesso sono soddisfatto. Io non guardo sempre più in casa mia, poi è chiaro che abbiamo preparato la partita dal punto di vista tecnico e dal punto di vista tattico, però non sottovaluto mai nessuno questo per principio perché è giusto sempre prendere con le pinze tutte le squadre. Monza è una squadra che viene da una vittoria importante contro Novara e noi andiamo là per giocarcela come fosse una partita come tutte le altre, quindi cercare di fare il meglio possibile. La squadra deve avere carattere, giocare forte, senza pressione e l'importante è uscire dal campo senza avere rammarico, poi se l'avversario è più forte fa parte dello sport. Nello sport è sempre così, se prendi sotto gamba un impegno o pensi di andare a giocare contro una squadra meno forte, alla fine poi sei deconcentrato e rischi di non portare a casa il risultato. Quindi come dicevo prima bisogna avere il rispetto di tutte le squadre che si incontrano, indipendentemente dalla classifica che hanno, e giocare e prepararle forte dal punto di vista tecnico e tattico e con l'approccio mentale, quindi non si può lasciare niente al caso.